Testa al Molfetta con calma e serenità nell'ambiente, il Barletta vive la vigilia della trasferta al Poli con la maturità chiesta da mister Francesco Farina guardare un match per volta a 16 finali senza pensare alla classifica, a presentare la sfida di domenica e il tuttofare biancorosso Marco Milella. Stiamo arrivando come sempre, noi sappiamo che per portarci i tre punti dobbiamo andare a manetta come stiamo facendo da inizio anno, sappiamo benissimo che domenica sarà una partita veramente dura, difficile, sappiamo che Molfetta ovviamente non sta attraversando un momento bellissimo però sappiamo anche che non sarà per niente facile andare lì e fare il nostro gioco e portarci tutti i tre punti. Barletta partito col piede giusto nel 2023 ma anche con la voglia di credere in un sogno che dopo Nardo era distante sette punti, adesso la Cavese ha più due con lo scontro diretto da giocare al Puttilli. Noi comunque sapevamo di avere un gruppo forte e lo sapevamo tutti, ovviamente nessuno si aspettava di stare a questo punto lì in classifica però consapevoli di essere veramente un grande gruppo, un gruppo forte, ora dobbiamo unirci per cercare di prendere il massimo che si può prendere da ogni partita. A Molfetta ci saranno quasi 1200 barlettani che avranno a disposizione la gradinata ospiti e l'intera tribuna del Poli, la fame dei Biancorossi è tangibile ormai da mesi. Una partita può capitare, possono capitare quei 15, 10, 20 minuti dove stiamo soffrendo e loro ci danno veramente una grossa mano, poi se veramente su noi mille fuori casa è come se giochiamo in casa, ci danno solo una grossa mano ed è meglio così.